Ciao VittoFamily, io sono Vittorio, benvenuti in questo nuovo video Oggi Federica ed Elena verranno a giocare con noi Vittorio mi è sembrato di vedere un qualcosa Forse mi sono soltanto distratta, non lo so C'è davvero qualcosa che non va Vera, io non so proprio di che cosa tu stia parlando Comunque diamo il benvenuto a Federica e Elena Sta qui, il laser sta qua Il laser qua Vera, ti senti bene? Sì, sta bene, sta bene, eccolo Vera ma è una luce quella, non è un insetto È un insetto quello, lo dobbiamo prendere, lo dobbiamo prendere Eccolo, eccolo, no, no, ecco Vera, è una luce, è il laser di Elena La cucinella, dove è la cucinella? Dove è? Eccola, eccola Vera, vogliamo darci una calmata per favore? Vera, calmati, calmati Vera VittoFamily facciamo questo scherzo a Federica che sta di là Sei pronta Elena? Sei pronta Ok Ciao Fede Perché ridi? Sto andando i calzini Ah Eh, boom C'è l'hubbis questo? Non è un teletubbis, è una palla gigante Un teletubbis Dov'è il teletubbis? Sono io Fede, Sfede, Sfede, Sfede Non andare in camera mia Sta arrivando Tu sei pronta? Sì Ok Puoi venire un attimo qui, Fede? Allora Allora Allora, vedi che tra poco Arriverà anche Elena Allora, vedi che tra poco Dovevi saltare Ah, ciao Fede Non te ne avevo riconosciuta Con la mascherina Andiamo a giocare Eeeh 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 Fede, sei pronta? No, non dovete chiamare l'alieno Chi disegna il formaggio più bello vince Vediamo chi fa il formaggio più bello e puzzolente E' più sfidato, ecco Ecco, quello non è un formaggio Quello è una mozzarella Come te Non è vero Io sono una mozzarella perché sono bianchissimo Ma questo non è un formaggio Una pizza C'è il formaggio Una pizza formaggiosa E vediamo adesso il formaggio di Federica Eeeh E Elena Questo è il formaggio di Elena E questo invece di Federica Vediamo che formaggio fai Che stai scrivendo Elena Brava Come sei precisa Federica Come sei precisa Eeeh E questo è pure l'avittore O che lo faccio pure io E però devi fare prima Tengo il naso nero come questo No, non c'hai il naso nero Fede Ma ti ho fatto uno scarabocchio Non mi manca scuocco a gelare Se no ti do uno scarabocchio testo Come? Scusa? Scusa Glottate All'ultimo pennarello All'ultimo pennarello Anca Ta 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 Tutta mia pizza formaggiosa Basta Non cancellate più niente La gara inizio adesso Tre Due Uno Preso il formaggio di Elena E tu non hai fatto ancora niente Facendo Precisione un corno Massima concentrazione Si sta concentrando Adesso c'è un topolino con il formaggio Questo non è un formaggio È un topolino con il formaggio E dove è il formaggio? Il tempo sta per scadere 5 4 3 2 15 Questo è il tuo topolino Jerry Scotty Jerry scotti No 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 Si sei una più decente Che c'è zicca il formaggio E' una più decente no? Si poteva fare una decente Cosa c'è che non va del formaggio? Non è una cosa bella? A me no Ma come? Ma come non vi piace il formaggio? A me nel formaggio è grattugiato sulla pasta A me c'è il parmigiano Reggiano Questa è piselli I piselli a me non piacciono Quando scrivo Come a me vittorio? Eh Prendiamolo a farlo a piacerti i piselli Oh beh In tal caso Non so che dire Sbaglio ho sentito una porta che si apriva No Mi sono confuso Dite? Non lo so Cos'è questo odore? Elena che cosa stai facendo? Io voglio fare carnevale Carnevale? Si Carnevale con Elena E da cosa ti vuoi vestire? Da pompiere? Da pompiere Si da pompiere Prendimi mettere Perché mi ha una bomba in testa Qua c'è il mio microfono Per contattare la centra Centralino vi ricevete? Si Sono del centralino? Si Dov'è Elena? Sono qui Sto andando a spegnere un incendio Ma non ci sta nessun incendio in casa mia? Non mi puntare qualcosa contro Dove va? Il incendio in casa di Vittorio Che cosa stai disegnando? Un hamburger Un hamburger? Con cosa? Facciamo chi fa l'hamburger più alto del mondo Il Big Mac disegno Ok Vai Elena Vieni Questo è rosso Tu disegni qua Io ci disegno qua Chi disegna l'hamburger più gustoso vince Questo è l'hamburger di Elena Quello rosso Oh È uno Quattro cinque fette di hamburger Sei fette di hamburger Cos'è questo? Le patatine fritte Le patatine fritte E il tuo hamburger invece vede piccolissimo L'altro hamburger L'insalata Il formaggio Ma questo panino è gigantesco Ho messo anche il cheddar Bacon Ci metti anche Federica qua dentro? Sì certo No Chiamalo il fede hamburger No Sì il fede hamburger Il fede hamburger No non lo fa E dai Questa è Federica Non ci somiglia niente a Federica Ora sei tu Cosa? Disegno una bella bottiglia di ketchup Ecco qua Ve l'ho schiacciato Schiacciato K Che è ketchup? Che ho finito Dario 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 Io non ho la telecamera No 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 Che se viene Che se viene Che se viene Davvero Buonasera Avete osato rubare la mia telecamera E adesso La mia punizione sarà terribile Fede Elena Per favore aspettatevi Perché continuo a avere questa strana tentazione Di essere osservato da un qualcosa Federica Vieni qui Non voglio farti niente Voglio solo giocare con te Parlo anche con te Elena Si sono nascoste Dove siete? Sono in cucina? Nel frigorifero secondo me No aspetta Non possono stare nel frigorifero Magari sono Nella No Non sono così piccole Magari Oh Sento un rumore da dietro questa porta C'è nessuno? La mania si sta muovendo da sola Quindi vuol dire che c'è qualcuno qua dietro E io so già forse chi c'è Oh c'è qualcuno che tira eh C'è qualcuno che tira qua dietro Vi attravate? No 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 Dammi la mia telecamera e nessuno si farà aterrare Sì 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 Che cos'è qua di lavandino? Vieni qui Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì No, 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 tu invece rimani qui con noi Ah, le fa tutto cheeseburger Come lo chiami questo panino? Ragazze, potete un attimo venire qui? Un secondo Cos'è questo coso? Cos'è questo messaggio? Stupidi all'occhi, sono tornato di nuovo e ho rubato i vostri legali Il vostro nuovo, sono insieme a questa piccola bambina Cosa? Oh mamma, questo significa che è vero È un ognomo armato di ascia, la bambina gli tira un sasso, la figura si alza È un ognomo armato di ascia, è vero La bambina gli tira un sasso, la figura si alza, è un ognomo armato di ascia La bambina gli tira un sasso, improvvisamente la figura si alza, è un ognomo armato di ascia Di tiramide VittoFamily questo significa solo una cosa, c'è qualcuno C'è qualcuno in casa nostra Le mie orecchie Non voglio andare a caccia dei mostri La bambina è coraggiosa, nel messaggio sta scritto che è un mostro nuovo e quindi non può essere nel lupo, nella strega e nel capitano gattini È l'alieno, l'alieno è diventato il nostro amico, ci aveva promesso che facevamo un giro sulla strada Però ha detto che sta insieme, ma è una bambina Vede dice che è un ognomo Elena, secondo te chi è che ha lasciato il messaggio? Capitano gattini Capitano gattini Capitano gattini Chiunque sia stato c'è soltanto un modo per scoprirlo La racchetta! La racchetta non può essere stata Come fa la racchetta a mettere gli indizi in giro? E la racchetta di Capitano gattini Non puoi giocare con le racchette Le racchette sono stregate, ha detto Elena Se volete diventare anche voi dei veri e propri membri della VittoFamily Dovete avere assolutamente le magliette ufficiali Per avere la maglietta ufficiale della VittoFamily con l'autografo Basta andare su vittorioloffredo.it E la maglietta ufficiale arriverà dritta dritta a casa vostra E diventerete dei veri e propri membri della VittoFamily Vittorioloffredo.it Vi aspetto lì, ciao!